Antonio Maggio, nonostante tutto, in Antonio Maggio è qui! Ma certo, benvenuto ancora! Ringrazio, ringrazio! Vincitore! Mi sembro... tolgo l'occhiale perché mi guardo in tv e non dico... Ma vai tranquilli, guarda come siamo messe noi, cioè voglio dire... Siamo antipatici quelli che stanno colchiali da sole in tv, pensavo fosse solo radio, allora li stavo tenendo. No, 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 è anche tv, Lombardia Channel, canale 615, digitale terrestre. Esatto, allora abbiamo appena ascoltato, nonostante tutto, che è il brano che dà anche il titolo al tuo disco. Dentro ovviamente trovate anche, mi servirebbe sapere, quella canzone che ha avuto poco poco successo, proprio così, non è andata a Sanremo, però è andata a Maluccio, capita. Capita, di essere esclusi da Sanremo giovani. Vabbè, vabbè, dai, per se capita. Del resto, Antonio, non si può vincere sempre, non è che uno va a X Factor e lo vince, poi va a Sanremo e lo vince. Ma io sai, io ho delle scadenze, ogni 2-3 anni devo vincere qualcosa perché... Perfetto, quindi fra 2 anni Castrocari o magari, non lo so, promettiamo se c'è ancora... Che esperienza sta, cosa si prova? Ma soprattutto non t'è noia a vincere sempre? Ma che palle, no? No, sono come la Juve, non ci stanchiamo mai di vincere. Io ventino anche tu, bene, 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 interessante. Capisci? No, ma al di là di ciò, è stata un'esperienza bellissima perché si è come se si fosse materializzato un sogno, qualcosa che ho sempre immaginato, sognato fin da piccolo. Siamo arrivati lì, sia io se gli altri 7 miei compagni di viaggio, con la consapevolezza di essere già dei privilegiati perché eravamo lì in rappresentanza di tutta la giovane musica italiana. Quindi l'unico nostro, tra virgolette, problema, se così si può chiamare, era quello di esserne all'altezza di questa situazione. Non è poco, eh. E direi che le canzoni dei giovani, secondo me, quest'anno erano anche più belle di quelle dei big, eh. Grazie. A me sono piaciute molto. Sì. Ovviamente... C'era una buonissima qualità quest'anno di canzoni. Sì, sì, sì. Tifavo per te, e di solito parto una sfiga allucinante quando tifo per qualcuno, eh. Però stavolta almeno si è spinta anche a dire altre cose. Sì, è la San Brunas. Sì, San Brunas. Cosa dici? No, dico delle belle cose. Nel senso di fatto ti volevo chiedere come ci si sente a essere uno dei tre bellocci di questo festival di Sanremo? Cioè alla fine c'eri te, il Cile, senza nulla togliere pure il Cile, e Peter Sincotti. Mengoni no perché si sta parlando nella mia lista personale. Te lo dico. No, mi fa piacere essere inserito in questa tua lista, grazie. Poi dopo la crema catalana io e te abbiamo un feeling particolare. Ci sono delle cose che non sono date sapere. Esatto. Che devono rimanere tra noi, che riguardano la crema catalana. Qui c'è un civettamento in diretta, se volete vi lascio da soli, guarda. No, ma più che altro ce l'ascoltiamo la canzone di Sanremo? Che siamo qui a ciaccolare di Sanremo. Ok, vai avanti, vai avanti. Le mie fantasie le modifica e poi le rimodella d'arte non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Ma che meraviglia Antonio Maggio. Pensiamo che è anche mattino, eh. Cioè, tra l'altro, tra l'altro, se ci avete fatto caso sotto c'era una base che non è quella del disco e lui è andato perfettamente a tempo anche con la base. Ecco, ecco, no, il problema è, vedi cosa succede a tenere solo una cuffia, che non senti cosa c'è sotto. Ma ecco, da Dio, sembrava remixata, cioè una cosa pazzesca. Tipo Zaffa Vidan, hai fatto con il remix sotto la base. E poi è vero, che meraviglia. Quindi vogliamo riascoltare il pezzetto, io voglio riascoltare. C'è una persona dietro di noi. C'è una persona dietro di noi. È Filippo Colombo. È che hai dormito poco stanotte, vedi le presenze, ma non ti preoccupare, passa. È la redazione, tu vai tranquillo, non ci badare. Fai come facciamo noi, non ci badare. Risentiamo il pezzetto di Sanremo, noi l'abbiamo già sentito in realtà mentre tu parcheggiavi, però lo riascoltiamo. Risentiamo. Dai, risentiamo. Sì, risentiamolo. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male.